Consigliamo Fano per i matrimoni, bella, bellissima, per le foto vengono molto bene. Sabato avrò un matrimonio, proprio al centro di Fano, al Duomo e poi ci sposteremo in Romagna, però sfruttiamo la chiesa al Duomo, sfruttiamo il centro di Fano per fare un piccolo shooting. Fano, città dei matrimoni, sono sempre di più le richieste da parte delle coppie di potersi sposare nei luoghi più suggestivi della città. Per questa ragione il Comune ha colto l'occasione per dare la possibilità anche ai privati di mettere a disposizione alcune location. A tal fine è stato pubblicato un bando comunale. Negli ultimi anni abbiamo deciso di prendere in considerazione una possibilità che la legge ci dà, e cioè individuare dei luoghi di particolare pregio, strutture ricettive di particolare pregio architettonico o paesaggistico della città che possono diventare luoghi di stato civile per la celebrazione di matrimoni o unioni civili. E questo è un elemento che ci è venuto proprio dalla richiesta degli esercizi, delle realtà commerciali della città che si sono proposte. Abbiamo individuato esperienze di questo tipo in altri comuni. Al mare, ma collocata accanto alle colline, con un corredo di opere storiche architettoniche di pregio, un bel lungomare e la bellezza dell'eremo di Montegiove che sovrasta la città. A Fano gli spazi dove immortalare gli sposi in foto sono parecchi. Le mura, la sassonia, il lido, cose così. C'è una chiesa molto bella tipo anfiteatro che ci si può andare a sposare lì, molto bella. Fano è una bella città per sposarsi sia in teatro che in spiaggia. C'è sia la collina che il mare, che è la parte più storica e quindi, insomma, sicuramente se uno è interessato ad avere una bella location, Fano è una buona città. La chiesa di San Francesco è molto bella. O il Duomo. Anche magari andare a spostarci sulla collina, collina fanese, dove abbiamo un verde bellissimo. Ora poi adesso che le piante iniziano a diventare un pochino rosse, anche quello è molto interessante.